La prima parte dei playoff è passata in modo eccellente, con un po' di difficoltà, ma siamo riusciti ad arrivare fino qui. Adesso è tempo di affrontare anche le squadre non venete, ovviamente del resto d'Italia, con altre formazioni veramente importanti. Quindi siamo arrivati ad un grosso traguardo. Come sta vivendo il presidente Gino Levantaci questo momento così bello del Chioggia Sottomarina? Beh innanzitutto ancora questa adrenalina di domenica con i supplementari disputati a quinto, stanno pian piano risanando un attimino tutto il danno emotivo che può provocare in senso positivo ovviamente delle sensazioni. La prima volta che raggiungiamo questo traguardo, dunque di aver vinto i playoff del nostro girone e adesso come dicevi Elisa comincia l'avventura a livello nazionale con società. La prima partita domenica con la Viterbese che ha già una storia calcistica importante anche nella serie professionisti, dunque sono dei test ormai ogni partita è una finale. Dato che ci sono due possibilità, ne giocheremo una in casa e una fuori casa, ovviamente domenica l'appello che noi facciamo a tutta la città di essere a supportare questa squadra che comunque ormai da un paio d'anni puntualmente nei playoff non ha ancora ottenuto nulla, non abbiamo vinto ancora nulla, ma già la vittoria come dicevo del nostro girone dei playoff ci dà la possibilità già da adesso di fare comunque domanda di un eventuale ripescaggio in C e penso che la tifoseria, la squadra, la città stessa, l'amministrazione comunale più che altro i giocatori sarebbero onorati dopo 32-33 anni, adesso non ricordo esattamente, di ritornare nella serie professionisti. Sappiamo che Gino Levantacci è un gran superstizioso, nel senso che lui non ha mai seguito, a parte la maglia viola di quest'oggi che sfoggia tutt'oggi e sappiamo che lui non ha mai seguito il Chioggia Sottomarina in campo, ma sempre a casa dalla radio, ascoltando la partita tramite la radio. Questa domenica, in questa partita così speciale, così importante, Gino Levantacci sarà in campo o sarà a casa? Dunque, una piccola correzione Elisa, con l'avvento del cambio dell'allenatore, quando è arrivato Renica, sono andato in panchina, ho seguito dunque le... Ahia, non lo sapevo! No, sono andato in panchina e ci sono state 5 partite e 5 vittorie, mi era un pochettino montato la testa, finché a Bolzano, con il sottoscritto in panchina, non l'abbiamo perso in maniera però immeritata, potevamo anche vincere 7-0. Adesso però abbiamo vinto due partite nei play-off a Tezze e a Quinto e il sottoscritto non ha visto la partita, dunque queste cavole non si sa qual è quella giusta, quella sbagliata. A questo punto prenderò una decisione, ma penso che la seguirò attraverso la BCS a casa. Senza la maglia viola, mi raccomando. Senza la maglia viola, assolutamente. Un'ultima domanda al Presidente, lei giocava un tempo, quindi insomma giocava sul campo come calciatore. È più dura giocare sul campo come sportivo o è più dura da tifoso e da Presidente? Sono due cose diverse. Come giocatore ovviamente uno se sta bene può dimostrare di essere pronto e di fare un'ottima partita. Come tifoso bisogna avere i battiti del cuore a posto per venire a supportare e ovviamente il tifoso dà un grande contributo ai ragazzi. Pensa Elisa che domenica in occasione del rigore, quando Ragusa ha segnato il 2-1 a due minuti della fine che ci permetteva dunque di vincere il nostro girone dei play-off, non c'era nessuno ad abbracciarlo perché tutti i giocatori, chi andava in tribuna stampa, chi andava dagli ultra-asse, dunque alla fin fine si è fatto le applausi quasi da solo in maniera molto positiva. Come Presidente direi anche questi sono sentimenti un pochettino diversi da essere giocatore o tifoso perché un Presidente ha anche questa responsabilità oltre a essere il primo tifoso ma la responsabilità che io mi sento come dicevi tu 34 anni fa la squadra era in Serie C quando arrivai con Franco Dalcin e Sanson allora e dunque sarei veramente orgoglioso e onorato di riportare come Presidente questa squadra nella Serie Professionisti penso che è una cosa che si merita alla città e poi se questo si avverrà insomma vuol dire che il futuro sarà tutto nostro perché penso una città come il Chioggia con tradizioni calcistiche ormai noi festeggiamo i 90 anni diciamo dell'esistenza del Clodia e del Sottomarina dal quale nacque poi nel 72-73 l'Union Clodia Sottomarina da Cina a Punta e Cosa e Sanson nacque dunque questa società che festeggia i 90 anni sarebbe veramente un bel regalo come ho detto in altre occasioni anche perché quest'anno abbiamo poi festeggiato anche il sessantesimo della tragedia di... l'abbiamo festeggiato, l'abbiamo commemorato più che altro però voglio dire potrebbe essere veramente l'anno giusto ce l'auguriamo un po' tutti Elisa Quindi l'appuntamento è per domenica alle ore 16 qui allo stadio Aldo e Dino Ballarin Da non perdere, da non perdere assolutamente Mi raccomando venite numerosi a sostenere la nostra squadra i Chioggia Sottomarina Ringraziamo il Presidente Gino Levantacci Grazie a voi Grazie a voi